Che cosa fare quando una delle nostre fotocamere rimane danneggiata? Oggi vado a raccontarvi quello che è successo a me e quindi come ho cercato di risolvere un problema a fronte di un danno subito dalla mia strumentazione, motivo per cui vi consiglio di seguire questo video fino alla fine. Prima di cominciare vi ricordo che io non rompo quasi mai niente e anche in questo caso non è assolutamente stata colpa mia nel senso che questa macchina io l'ho usata pochissimo, l'ho trovata difettata ma non ha preso colpi, non ha preso niente. Però se volete seguire le mie vicissitudini per assicurarvi che io continui a non rompere niente io vi consiglio di iscrivervi subito a questo canale così non appena romperò qualcosa ma romperò veramente nel senso che sarà proprio colpa mia, farò un contenuto per raccontarvelo e allora potrete finalmente puntare il dito e dire oh finalmente hai rotto qualcosa. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e devo dire che nel corso della mia carriera non ho rotto quasi niente, mi è capitato una volta di schiantare una Sony e vi lascio il video linkato in card, lì vi racconto quello che è successo in quell'occasione ma quella era una fotocamera non di mia proprietà, era una strumentazione presa a noleggio e quindi l'iter è stato diverso. Che cosa fare quando è nostra la strumentazione che si rompe? Vado a spiegarvi quello che è successo a me. Stavo realizzando un contenuto per YouTube tra l'altro quindi se si è rotta la fotocamera è anche colpa vostra, no ovviamente scherzo stavo realizzando un video su YouTube che dovrebbe essere già uscito nel momento in cui esce questo contenuto per cui andatevelo a ripescare, era una comparativa tra l'all'epoca nuovo iPhone 14 e le mie fotocamere quindi ho fatto una comparazione tra il file di una fotocamera e il file dell'iPhone i risultati li trovate nel video. Fatto sta che quando prendo in mano la mia 5D Mark IV mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. La rotella dei tempi non funziona non è che non funziona a dovere o non funziona come una volta, non funziona proprio la rotella che sta sopra vicino allo shutter è inerte, è completamente morta la prima cosa che penso è cretino avrai lasciato il lock come succede sempre se vai nei forum la prima cosa che ti dicono è mai tolto il lock vado a controllare perché non si sa mai, insomma sono un fenomeno ma i miracoli non li so fare ma effettivamente non sto sbagliando niente allora vado anche a vedere nel sottomenu, vado a vedere i pulsanti personalizzati ho detto mai visto mai che gli ho abbinato un'altra funzione no, no, la funzione è giusta e quindi non era quello il problema vado anche a vedere se funziona all'interno dei menu perché sapete che la rotella sì è vero serve per i tempi, se premi il bottone ISO serve per gli ISO ma se navighi nel menu fa altre cose per esempio se vai sulla sezione qualità puoi utilizzare la ghiera dei diaframmi per selezionare la qualità JPEG e la ghiera dei tempi, la ghiera principale per selezionare la qualità RAW ovviamente la mia ghiera non funziona neanche lì e quindi con una lacrimuccia ho dovuto constatare che la ghiera era rotta, irrimediabilmente rotta ho anche fatto una cosa che ho detto me la gioco se funziona, perché in altre circostanze così me l'ero cavata se funziona sono un gallo, se non funziona ho peggiorato le cose con questo qui ho risolto un sacco di problemi questo, vedete, aria compressa e praticamente va a eliminare la polvere, va a eliminare i depositi, i residui insomma qualcosina magari faceva se era un accumulo di polvere o qualcosa che ostruiva era molto possibile riuscire a cavarsela con questa io questa la uso per esempio per pulire non i sensori mai sui sensori una cosa del genere però questa io la utilizzo per esempio per pulire l'innesto dell'iPhone quando si raggruma la polvere, si forma il deposito una spruzzata di questo è se prima prendeva male l'attacco dell'iPhone riprende a funzionare perfettamente anche in questo caso però non c'è stato nulla da fare e qui ho dovuto fare ovviamente delle considerazioni perché mi sono detto è indispensabile quella ghiera? no, perché le cose che fa quella ghiera io posso farle dal display touch quindi io potrei tutte le volte premere Q andare a cliccare sui tempi a quel punto imposto i tempi con la ghiera del diaframma che invece funziona gli ISO, stessa cosa invece di premere ISO e poi usare la ghiera premo il tasto Q, vado nel menu, seleziono gli ISO e a quel punto cambio gli ISO è seccante ma si poteva anche fare però mi sono detto la 5D è una delle mie macchine di punta è una delle macchine, probabilmente la macchina più bella che ho a mio parere è la macchina più bella che ho non sarà disponibile per sempre l'assistenza perché è una macchina uscita di produzione quindi sul sito Canon c'è riportata una tabella che dice che le macchine uscite di produzione macchine di fascia alta godranno ancora del servizio assistenza clienti per 7 anni dal momento in cui vengono messe fuori produzione questo significa che se io la porto in assistenza oggi me la prendono ma se io la porto in assistenza fra 6 anni potrebbero non prendermela più per cui mi sono proprio detto noi adesso la facciamo sistemare e la portiamo in assistenza così per i prossimi 7 anni io spero che continui a funzionare in maniera tale da potermela portare avanti per i prossimi ma io spero anche 10-15 anni dunque com'è la trafila? prima cosa da fare ovviamente andare sul sito di Canon per cercare di capirci qualcosa quindi vado sul sito vado sulla parte dedicata all'assistenza ero già iscritto a Canon CPS Canon Professional Service avevo già l'iscrizione perché avevo comunque registrato i seriali delle cose che avevo comprato così sono registrate e risulta che appartengono a me quindi avevo già l'iscrizione ho semplicemente fatto l'accesso ho fatto un paio di domande ho anche mandato una mail mi hanno risposto con la telefonata quindi mi hanno chiesto qual era il problema e ti offrono due possibilità tu puoi farti arrivare un corriere e il corriere è a spese di Canon quindi praticamente Canon ti manda un fattorino a cui tu consegni la tua strumentazione difettosa il fattorino ritira e ti lascia un foglio di via con scritto che ha ritirato quella strumentazione con quegli accessori eventualmente la fotocamera viene portata presso il centro di assistenza io non ho usufruito di questo servizio perché il centro di assistenza non è distante da dove io lavoro per cui ho preso la macchina 15 minuti ero lì gliel'ho consegnata personalmente mi sono fatto dare lo stesso foglio su cui c'è scritto che verrà esaminata e verrà eventualmente riparata fino a un massimale di 200 euro quindi se la riparazione dovesse superare i 200 euro mi scrivono, mi telefonano, mi contattano in qualche modo e mi chiedono il benestare per procedere perché se superano i 200 euro di riparazione è come quando vai dal meccanico quando il meccanico ti deve picchiare giù 800 euro di riparazione ti telefona prima per dire guardi che la cinghia è andata dobbiamo cambiare però ti telefona prima di farlo perché comunque sono belle cifre quindi non ti fa trovare il lavoro già fatto ma ti avvisa prima se la cifra è molto diversa da quella che ti avevano detto io spero che questa riparazione rimanga intorno ai 200 euro spero che non sia una cosa troppo esorbitante perché in fin dei conti è solo una rotella da cambiare però sono ben consapevole che per fare questo la macchina deve essere completamente aperta e questo significa che si devono scollare tutte le gomme tutte le guarnizioni di gomma tutti i grip che ci sono sul body devono essere completamente scollati e tirati via devono essere rimosse le viti la macchina deve essere aperta e quindi smontata praticamente bisogna smontarla quasi tutta per fare quella modifica lì e dopodiché bisogna andare a sostituire il pezzo e poi rimontarla quindi un lavoraccio rimango in attesa di sapere quale sarà effettivamente il preventivo per una riparazione di questo tipo fatemi sapere in un commento se siete interessati a sapere come andrà a finire la vicenda e come sarà effettivamente il preventivo vi posso dire però mi è stato assicurato che la camera verrà presa in carico in una decina di giorni quindi 5 giorni lavorativi probabilmente la mia macchina verrà esaminata e in altri 5 giorni lavorativi verrà probabilmente messa a posto per cui in 10 giorni quindi 2 settimane alla fine 15 giorni totali io dovrei avere indietro la mia camera speriamo questa volta perfettamente funzionante faccio questo contenuto per dirvi che per ora fin qui sono molto soddisfatto di questo servizio nel senso che io avrei potuto farmi arrivare il corriere comodamente in ufficio invece ho preferito andare io anche perché prima volta che uso il servizio di assistenza di Canon quindi volevo anche vedere la sede lo ammetto quindi sono andato di persona però il servizio è molto buono perché sia che ti mandino il corriere che comunque non è a spese tue quindi ti mandano il corriere ti risparmiano di dover andare fin lì soprattutto se sei lontano dal centro di assistenza ti fai mandare il corriere devo dire che nel centro ti accolgono anche bene centro comunque bello pulito non c'era coda sono andato subito al mattino quindi ero da solo ti accolgono bene la sede è carina assolutamente professionali prendono in carico il tuo danno ti rilasciano il foglio di via quindi da quel punto di vista ti senti anche trattato bene diciamo ti fanno firmare ovviamente che fino ai 200 euro procedono in autonomia con la riparazione e oltre se sfortunatamente si va oltre invece vieni ricontattato c'è un servizio di messaggistica per cui ti viene notificato sia quando la camera viene presa in carico sia quando la camera è pronta per essere ritirata quindi non devi stare a rovellarti a dire quando è che me la ridanno quando è che cominciano a lavorare lo sai te lo dicono da questo punto di vista devo dire sono contento di essere e di rimanere con Canon anche per questo perché comunque essendo leader di settore quando gli porti un prodotto difettato e questa è la mia prima volta quando gli porti un prodotto difettato sono maledettamente organizzati per gestire la cosa perché comunque dieci giorni per una riparazione di questo tipo secondo me è poco con tutte quelle che gli arriveranno secondo me è poco una cosa del genere è ok che io ero iscritto e tutto quanto al CPS quindi magari hanno più riguardo per i professionisti che hanno tanti seriali di tante strumentazioni diverse registrate presso di loro questo può anche essere però comunque dieci giorni secondo me è veramente poco per una riparazione di questo tipo di nuovo fatemi sapere in un commento se siete interessati a sapere come finisce la vicenda perché se in tante persone mi dicono che sono interessate faccio un seguito a questo video vi racconto quando vado a riprenderla vi faccio vedere quando vado a riprenderla come me la consegnano se funziona tutto perfettamente e quanto costa una riparazione di questo tipo a questo punto non mi dilungo oltre vi ricordo i soliti appuntamenti che sono se riesco a tenere questa programmazione di stampo feudale il lunedì e il giovedì pomeriggio e il sabato a mezzogiorno vi ricordo anche di iscrivervi al canale così rimanete aggiornati su tutte le ultime uscite e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video A presto